Buongiorno, buon martedì mattina, benvenuti alla rassegna stampa, sono le 7.30, FanoTV la rassegna che vi accompagna in inizio di giornata per l'informazione, però come sempre i giornali sono pronti ma vediamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi è primo dicembre, primo giorno di dicembre, la chiesa osserva il beato Carlo di Gesù, religioso, il sole è sorto alle 7.21 e tramonterà alle 16.33, guardiamo i dati della nostra centralina meteo che potete trovare anche sul nostro sito FanoTV e quindi la potete consultare in qualsiasi momento della giornata per vedere quale è l'evoluzione del tempo, in questo momento ci sono 5 gradi, tanta umidità, insomma la dicitura è sul freddo, vediamo però che cosa ci rimanda la webcam, anche questa la potete consultare quando volete per vedere l'evoluzione e insomma il cielo si presenta in questo modo, vediamo dalla protezione civile come sarà il tempo per i prossimi giorni, partiamo da oggi, il cielo è sereno, poco nuovoso, aumento di nubi bassi in serata, quindi compare la simbologia della nebbia, precipitazioni assenti, le temperature sono in aumento, i minimi stazionari invece le massime, vediamo domani mercoledì 2 dicembre, il cielo è nuvoloso per nubi basse dovute a nebbie persistenti lungo il litorale, quindi comparsa di nebbia intensa nel corso della giornata, però nessuna precipitazione, in diminuzione i valori massimi, quindi le temperature. Spingiamoci fino a giovedì, giovedì 3 dicembre con le previsioni della protezione civile, nuvoloso per nubi bassi, il cielo dovute a nebbie persistenti, quindi ancora qui fino a media collina, ancora qui il fenomeno della nebbia è rappresentato dalla simbologia, quindi attenzione per chi si sposta nelle prime ore del giorno verso l'interno della provincia, nessuna precipitazione, quindi niente pioggia. Vediamo quindi nelle pagine dei giornali che cosa ci presentano, il resto del Carlino, Messaggero e Corriere Adriatico. Partiamo da quello che è avvenuto ieri in stazione a Fano, c'è stato un blitz della polizia, Digos di Pesaro e Questura e il commissariato di Fano erano in forze alla stazione alle 5.20 all'arrivo del regionale per Ancona. Che cosa è successo? Si cercava un uomo che era stato dato sulla banchina di Pesaro pochi minuti prima con in mano un oggetto che presumibilmente poteva sembrare una pistola. È arrivata una segnalazione al 113 da parte di una donna che ha attivato così la polizia e sono scattati i controlli. Il treno che passava su quella banchina poco dopo l'avvistamento era appunto il locale per Ancona, di qui è partito il blitz. Quindi allarme, la polizia fa evacuare la stazione, è appunto una telefonata del 113, c'è una persona armata sui binari, le ricerche però non hanno dato nessun risultato. Oltre 100 i passeggeri presenti sul convoglio in quel momento, polizia con giubbotti antiproiettili, armi in pugno sono entrati sul treno e hanno incominciato a controllare i passeggeri alla ricerca di questa persona, uno straniero di mezza età che armeggiava appunto con questo oggetto una pistola, probabilmente virgolettato, questo è quello che ha detto la signora al 113, controllati i bagni e poi si è partiti per il blitz a Fano, controllato appunto il regionale. Non è ancora chiaro se è stato un falso allarme o se il sospetto sia fuggito, fatto sta insomma che adesso si aspettano anche i risultati dei filmati, delle videocamere che erano presenti in stazione per vedere appunto di rintracciare questa persona che così ha fatto scattare questo allarme. Andiamo però nelle pagine di Pesaro, per il resto del Carlino, si parla di sanità, sanità bollente perché la nomina della Capalbo è tutto archiviato, il GIP dice è passato troppo tempo, il fascicolo va in soffitta perché il presunto abuso d'ufficio è prescritto. Besanti sono le accuse, il magistrato però scrive che la vicenda meritava ampiamente un processo e continuiamo sulle pagine del resto del Carlino perché il Natale è alle porte come si dice ma il Natale è anche solidarietà, non è soltanto feste, mercatini, alberi di Natale e quant'altro ma è un Natale che deve rispettare e rispettare anche le persone che sono in difficoltà e quindi per Natale a Pesaro si aiutano i bambini di Abba, venerdì sera l'annuale cena di beneficenza per l'Etiopia a Villa Catani Stuart. Il 4 dicembre saranno presenti anche i sportivi, i giocatori della Vis, della VL, oltre al dottor Claudio Costa della clinica mobile del MotoGP, insomma che tutti quanti conosciamo, chi segue perlomeno il motociclismo e Costa lo conosciamo tutti, però vi dicevo che il Natale è anche feste, non solo. Il Natale in piazza a Pesaro, un Natale che il resto del Carlino definisce alla grande, costo preventivato a 90.000 euro, questa è la foto della piazza di Pesaro, il giorno dell'inaugurazione, dell'accensione dell'albero, l'albero dei record perché è il più illuminato d'Italia e insomma è Ricci, dà a delle noci il merito di questo successo perché insomma è l'uomo in più di ogni evento, il comune spende meno degli altri anni perché paga Pesaro parcheggi, quindi privati e controllate, multiservizi paga anche le luci perché ha avuto anche un appalto da 7 milioni e quindi può sicuramente spendere qualcosa a riguardo. Eccesso di mercatini, anche questa è un allarme che lanciano ambulanti e commercianti che sono un po' arrabbiati sul piede di guerra perché dicono troppi mercatini, troppi eventi di questo genere che fanno tutt'erba un fascio, è sempre una festa e quindi saturano tutti i periodi dell'anno facendo diventare la festa non più una festa, un evento eccezionale ma una quotidianità e quindi insomma c'è una specie di saturazione di questo. Ancora sulle pagine del resto del Carlino andiamo invece a vedere la pagina di Fano e anche qui se quella era la piazza di Pesaro, questa è la piazza di Fano, vedete ieri sera si stava montando l'albero, l'albero che sta creando sui social network molti commenti, città è un po' divisa, è divisa tra chi è favorevole a questo albero e a chi non gli piace, struttura non ancora finita ma i social si scatenano, città divisa, scoppia il caso dell'albero di Natale, brutto, bruttissimo, no dateci tempo, questi insomma sono i commenti, questo sarebbe il rendering, insomma la raffigurazione di come dovrebbe venire e questo è il montaggio, ieri sera vedete con le luci a tarda sera, il primo il primo pezzo che è questo, questo è il basamento e dopo qui dovrebbero esserci gli altri pezzi a raggiungere la quota di 12 metri, inaugurazione è fissata per domenica prossima alle ore 18 quando partirà anche l'illuminazione di tutta la piazza, insomma queste sono le due piazze, ancora nelle pagine del resto del Carlino si parla di aeroporto, aeroporto di Fano che langue un po', l'allarme lo lancia anche Santorelli che dice sono stati annullati i voli per il 2016 proprio perché l'aeroporto è in condizioni, la pista è in condizioni com'è e uno dei tre soci della società, ovvero la Camera di Commercio lancia pugni sul tavolo perché Drudi minaccia il suo presidente, andiamo via, duro attacco a regione e comune, senza di noi lì si chiude tutto, quindi il presidente ha partecipato all'assemblea dei soci e dice insomma in questa intervista snocciola tutte le sue perplessità sull'andamento dell'aeroporto e poi insomma il cronista gli chiede, litigato con Seri, col sindaco Seri, lui dice no, non è possibile perché insomma caratterialmente è difficile litigare con Seri. Riapro la pagina perché vi faccio vedere quello che c'era in brasso, esatto, il blitz dei carabinieri a Corinaldo perché insomma spacciano nel camper, sono stati arrestati in tre a Calcinelli, vedete questo è il camper nel quale si effettuava lo spaccio e questo è tutto il materiale recuperato dalle forze dell'ordine. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, partiamo dalla pagina di Pesero dove si intesta parla di mercatini di Natale, anche qui c'è chi protesta, non è in regola, sono sei operatori che pretendono a giurazioni non concesse ad altri, però insomma in grande evidenza anche l'assemblea con gli ordini professionali tenuta dal sindaco Ricci che annuncia che la fusione non da 10 ma da 25 milioni in un decennio, nuovi conteggi sulle unioni dei comuni e quindi lo annuncia il sindaco Ricci. Il sindaco questi sono giorni decisivi appunto perché il voto del referendum sarà fondamentale per la partita, naturalmente la partita sul sblocco del patto di stabilità e quindi insomma i fondi che possono essere riversati poi a pioggia sul territorio. Anche qui nelle pagine del Corriere Adriatico di Fano, blitz alla stazione sul treno e caccia ad un uomo armato, il convoglio è stato bloccato per tre quarti d'ora, appunto si cercava quest'uomo armato di pistola e arrestati tre ragazzi nel bazar della droga e quindi sorpresi dai carabinieri proprio a confezionare le dosi nel camper parcheggiato davanti alla discoteca di Calcinelli, evidentemente pensavano di essere al sicuro, là dentro invece insomma non lo erano affatto e il controllo è scattato sabato sera, i giovani in manette sono di Corinaldo, uno ha tentato la fuga, è stato placato e un carabiniere ci ha rimesso anche ahimè la spalla. La polemica, la situazione brutta nella quale si trovano gli autisti delle ambulanze, Solaris e Croceverde, ancora sulla cronaca c'è uno sciopero oggi, stipendi arretrati, sciopero gli autisti dell'emergenza e ci sarà anche un presidio davanti all'Asur e lo sciopero è oggi dalle 7.45 alle 11.45. Insomma questa è una situazione nella quale purtroppo loro si trovano un po' tra l'incudine e il martello perché possono essere precettati perché è mancanza di servizio pubblico, insomma scioperare per loro è un po' problematico. Allora, chilometri, un chilometro 8 milioni, nelle pagine di Fano del Corriere Didattico si parla dell'Interquartieri, vedete la conferenza stampa di ieri proprio nel pezzo dell'Interquartieri e a giugno l'inaugurazione del tratto da via Roma alla trave e quindi questa arteria così importante per Fano vedrà il suo completamento agli inizi dell'estate. Il comitato di Bellocchi, l'altra notizia che vi evidenzio qui nelle pagine del Corriere Didattico, incontra il sindaco, si parla di inquinamento ambientale, dopo la diffida legale per mancate risposte sull'inquinamento i cittadini ci vogliono vedere chiaro e chiedono al comune che si verifichi la salubrità non solo dell'aria ma anche dell'acqua e dei terreni. Sono i cittadini di Bellocchi che sono residenti nella zona industriale e che hanno presentato a luglio appunto questa interrogazione, questo ricorso. Ancora, però vi faccio vedere nelle pagine del Corriere Didattico, vi faccio vedere anche Senigallia, serate a tema per salvare la notte shop. Si parla appunto di shopping serale, c'è stata un'apertura serale degli esercizi commerciali nel centro di Senigallia, però è stato, a quanto dice appunto il Corriere Didattico, un flop nello scorso weekend e quindi arrivano i correttivi per richiamare gente nelle strade e nelle piazze per lo shopping serale. L'ultima testata che vi faccio vedere è il Messaggero. Apriamo la pagina di Pesaro dove anche qui in fotonotizia c'è il blitz delle forze dell'ordine alla stazione per il regionale Rimini-Ancona, fermato appunto ieri alle 5 e mezza, uomo armato, bloccato il treno allarme terrorismo, scatta la macchina della sicurezza, convoglio regionale bloccato, Digos, uomini della mobile e della questura appunto e del commissariato di Fano, mobilitata tutta la polizia in assetto. Poi si parte di VL e quindi di sport, la VL è KO ma festa per l'arrivo di Dane 2, insomma il giocatore amatissimo da Pesaro, da Rendei, insomma presenta il suo figlio e anche lui vestirà la maglia della VL. Il meteo sarà nelle pagine del Messaggero instabile fino a venerdì. Ecco che andiamo nelle pagine interne del Messaggero e si parla di Banca Marche, Banca Marche assalto agli sportelli, persi i nostri soldi, decine di clienti non possono recuperare azioni e obbligazioni, nuova banca delle Marche, Goffi vede Nicastro e dice stiamo per partire, quindi anche questa è una situazione che ha creato e creerà notevoli disagi alle persone che hanno perso i loro risparmi in questa operazione. Cantieri, pioggia di milioni condizionata, naturalmente si riparla anche nelle pagine del Messaggero dell'incontro che ha avuto Ricci con gli ordini professionali e dice apertura naturalmente con questi soldi di 24 gare d'appalto entro l'anno e sono subito eseguibili questi lavori, però insomma è tutto condizionato dalle fusioni che ci saranno, in primis quella con Monbaroccio e passeremo da 2 a 25 milioni da spendere in un solo anno. E poi a luni al freddo per decine di giorni tilt l'impianto di riscaldamento del Giardino delle Meraviglie, ieri l'intervento dei tecnici per risolvere questo problema. Anche qui naturalmente nelle pagine del Messaggero c'è il blitz, c'è un uomo armato bloccato, il treno, l'allerta è scattato subito dopo la segnalazione appunto di una ragazza che aveva visto sulla banchina di Pesaro, della stazione di Pesaro, un uomo, uno sconosciuto con una pistola. L'ultima pagina che vi propongo è sempre quella del Messaggero di Fano, anche qui grande risalto all'Interquartieri, è un'opera che si completerà quest'estate, il secondo tratto procede verso il taglio del nastro, l'intervento concluso per la prossima primavera a cavallo tra aprile e giugno e una volta concluso il tratto tra le vie Roma e Trave cambierà gli assetti della viabilità, sicuramente sarà un decongestionare tutto il traffico che c'è appunto in via Roma. A Sassonia poi si parla appunto del flagello di via Ruggeri, come sempre quando ci sono le mareggiate si lavora appunto in via Ruggeri e poi di spalla anche qui in piazza si installa l'albero di Natale e lo sciopero, anche qui viene riportato dei lavoratori delle cooperative Soraris e Croce Verde. Si è concluso, vi faccio vedere qui Chef in the City, il concorso gastronomico di chef amatoriali che si tiene nella nostra città, ormai da tre anni e con grande successo ha vinto una ragazza, Lulietta Marco, che è la più brava, con un piatto che triglie in Camporella dove c'erano filetti di triglia con una crema diversa e melanzane grigliate che ha convinto la giuria tecnica ma anche le persone che erano presenti alla serata finale. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere per la rassegna stampa di oggi, un saluto anche a coloro che ci guardano in replica. Occhio ai giornali torna domani mattina puntuale alle 7.30. Buona giornata a tutti voi.